Rammarico o sospiro di sollievo? È il dilemma di fine partita in casa Teramo, in tenuta blu che al Benelli di Pesaro contro la neopromossa Rivelazione Vis ha giocato un incontro a corto nel primo tempo e intraprendente nella ripresa, dove ha sfiorato il vantaggio più volte. Vantaggio che poteva arrivare sul rigore, ma Piccioni si è fatto parare il tiro. Per la serie il gol di un attaccante rimane una chimera. Poi però in pieno recupero l'arbitro assegna un penalty anche alla Vis. Dal dischetto l'ex Olcese colpisce la traversa, giusto così perderla sarebbe stata una beffa. La partita. Maurizzi deve rinunciare a Speranza, Ventola e Pacini, influenza dell'ultimora, sulla sponda pesarese Colucci non può contare sul rizzato, chi rilove lo squalificato Gennaro. Primi 45 minuti, poveri di spunti. Inizia bene nella squadra di casa. Quattordicesimo tiro improvviso di destro di Diop da fuori area, palla al lato. Poco dopo ci prova Tessiore, alto. Il Teramo si vede con questa incursione di Zecca. Il giocatore partendo dalla fascia rientra e calcia col mancino, Tomei in due tempi. Ventiquattresimo, pericolosa la Vis. Diop vince un rimpallo su Caidi e calcia sul primo palo, trovando i piedi di Lewandowski. I padroni di casa continuano a premere. Ventinovesimo sugli sviluppi di un calcio di punizione. Briganti si ritrova in piena area, ma da ottima posizione chiude alto. Con le immagini passiamo al secondo tempo. Terzo minuto, Teramo vicino al vantaggio con questa conclusione di Persia. Deviata, la sfera si adagia sull'esterno della rete. Ancora Teramo in avanti poco dopo. Zecca ruba palla a centrocampo, progressione imperiosa e grandestro deviato in angolo da Tomei. Al decimo si rivede la Vis con una conclusione debole e centrale di Tessiore. Nessun problema per Lewandowski. Il Teramo non sta certo a guardare. Ci prova Piccioni due volte lanciato in area da Proietti senza fortuna. La partita è aperta, soprattutto per merito del Teramo, che gioca a viso aperto. Al ventisettesimo, Baldè, entrato da poco, conclude al lato di Poco. Due minuti dopo, il calcio di rigore per il Teramo. Strepitosa incursione di Persia sulla trequarti, affossato da Gianola. Il direttore di gara, Marini di Trieste, non ha dubbi e indica il dischetto. Dunque, grande occasione per il Teramo e per Piccioni di sbloccarsi, ma Tomei intuisce sulla ribattuta grande mischia, ma nulla di fatto. Il Teramo ci prova ancora, non demorde. La punizione di De Grazia buca la barriera, ma la palla viene bloccata da Tomei. Nel finale, parata plastica di Lewandowski sul colpo di testa di Baldè. All'ultimo assalto dei padroni di casa, in pieno recupero, il calcio di rigore assegnato alla Vis. Dal dischetto, Olcese alza la traiettoria, ma la palla colpisce la traversa. Era dal 21 ottobre scorso, Monza-Teramo 0-1, che i biancorossi non mantenevano la porta inviolata. E sabato alle 14.30 al Bonolista arriva la vicecapolista triestina degli ex coletti, Petrella e Steffè. Grazie.